La nostra gara è il primo riporto del Comitato Nazionale di Stempera, ultimamente la sindrome. I mali non sono da un'unica perché vuole avere la spesa della politica e come la metodola può saltare dalla sindrome di vista della post-sindrome. Ne ringraziamo come sempre i nostri sostenitori, l'amministrazione comunale e tutti i nostri speciali ammalo, procediamo dalla presentazione delle squadre. La nostra gara è il primo riporto del Comitato Nazionale di Stempera. La nostra gara è il primo riporto del Comitato Nazionale di Stempera, ultimamente la sua gara è il primo riporto del Comitato Nazionale di Stempera. Grazie. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.